non sono scemo ho scelto il più caro 85 no questo 350 dollari 300 350 più le tasse e infatti ti sta da un milione di dollari come il film quello da un milione come ti chiamo film western c'è un film western è vero c'è uno che dice il milione qualcosa